Ciao ragazzi e ragazzi, non so come dirvelo, purtroppo il nostro Noela, nonché Emanuela Grisanti, non è passato a live di X-Factor. Eccoci a Berlino, dove si conclude l'ultima selezione, Young Visit, dove i nostri giudici sceglieranno tre dei loro concorrenti da portare a live. A Young Visit i concorrenti dovevano portare un brano scelto da loro stessi. Noela si esibisce con un brano rivisitato da lui stesso e tradotto in italiano, ma la sua esibizione purtroppo non basta a convincere Marika a portarlo a live. Per Noela quindi termina questo percorso. Ci ha fatto sorridere con i suoi inediti Garote e Ti voglio al mio funerale, che sono diventati ormai dei tormentoni. Sinceramente speravo di ascoltare un altro suo inedito. Nella scorsa puntata, infatti, Noela aveva annunciato che probabilmente avrebbe cantato Settimo Nano, titolo che già aveva incuriosito un po' tutti noi, e anche Marika, tanto che alla fine dell'esibizione ricorda Noela della sua promessa. Eccola accontentata. Emanuele la canta proprio per il suo giudice. Sarà stata sbagliata la scelta del suo brano? Magari proprio con Settimo Nano riusciva ad andare a live? Chissà. Spero che presto sentiremo parlare ancora di Noela e dei suoi inediti. Commentate pure qui sotto. Io intanto vi saluto e a presto con un nuovo video. Bye bye! Grazie a tutti.